salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video anche oggi ragazzi sono apparse delle nuove foto in cui si vede la versione definitiva del controller del nuovo dji mavic air 2 questo drone superatteso che vedremo a breve perché tra due giorni si svelerà da parte dji questo nuovo drone ma in queste foto invece guardiamo da vicino il controller che è cambiato completamente dalle soliti controller dji quindi questo è quello del mavic mini ma anche il mavic air e il mavic pro hanno diciamo una concezione simile a questa con lo smartphone che viene inserito qua sotto e con questo design in questo caso invece dji ha cambiato completamente design ha fatto un radiocomando completamente nuovo che mi piace molto dal punto di vista estetico e dal punto di vista secondo me ergonomico però anche qua non mi piace la cosa dello smartphone perché come non mi piaceva qua non mi piace neanche qua nel senso che l'impostazione di metterlo sopra sì mi piace ma di averlo fisso non mi piace molto è vero che qua dji come novità ha sfruttato il discorso del fissaggio delle controlli inserendo le antenne appunto nel supporto che andremo ad estrarre a molla in cui va incastrato lo smartphone quindi avremo le antenne che non dovremo più andarli a direzionare noi ma saranno incorporate nel nella struttura che tiene lo smartphone però questa soluzione non mi fa impazzire dal punto di vista della comodità dello smartphone perché avere uno smartphone fisso qua sopra o fisso sotto a me proprio non piace perché comunque uno perché il controller non tutti lo teniamo nello stesso modo dal punto di vista dell'isclinazione perché ognuno lo tiene come è più comodo e questo va poi anche a influire con i riflessi della luce del sole che sono veramente una cosa difficile già da gestire avendo delle regolazioni dello smartphone figuriamoci se ce l'abbiamo fisso quindi questi riflessi che potremmo andare un po' a limitare andando ad inclinare o meno lo smartphone sul nostro controller anche qua non lo si può fare o perlomeno di serie non lo si potrà fare e non capisco perché dji sebbene abbia fatto questo controllo secondo me è bellissimo e lo si vede anche dai materiali e tutto che è un controller di qualità anche perché comunque stiamo parlando di un drone che non costa poco non riesca ad inserire nei suoi controller soluzioni tipo queste allora prendiamo per esempio la soluzione dell'outelivo che secondo me è eccezionale perché il controller è veramente piccolo queste due impugnature sotto si aprono solo per tenere in maniera ergonomica il controller ma lo smartphone è inserito qua sopra con diciamo un supporto che è orientabile ma che quando andiamo a chiudere fa diventare comunque il controller veramente piccolo e questa è una soluzione sicuramente semplice ma davvero pratica per avere una gestione del nostro smartphone sul controller e orientarlo come più ci aggrada l'altra soluzione che mi piace davvero tanto è quella delle Power EGX questa soluzione che vedete che sembra che non ci sia il supporto dello smartphone e invece da qua il supporto viene fuori e possiamo andare a orientarlo come più ci aggrada possiamo metterlo qua in alto possiamo metterlo in basso possiamo abbassarlo anche perché qua comunque ci sta qualsiasi tipo di smartphone e vedete come si ha tutte le possibilità di regolazione per andare ad avere sia una comodità dal punto di vista dello smartphone dal punto di vista visivo nel senso che in base a come teniamo orientato noi controlli potremmo andare a orientare lo smartphone e soprattutto per i riflessi del sole quindi se c'è tanto riflesso del sole potremmo andare a inclinarlo di più o di meno in base all'esigenza e quando andiamo a chiuderlo sembra che non ci sia praticamente il supporto dello smartphone perché guardate è più basso degli stick quindi non ha un ingombro maggiore questa secondo me la soluzione davvero fantastica da parte di Power Vision ma DJI anche qua non è riuscito a fare è vero che intorno ad DJI dopo tutte le aziende di terze parti costruiscono supporti e via dicendo che infatti la maggior parte della gente che è un prodotto DJI o meglio un drone DJI normalmente acquista perché si sta anche di avere lo smartphone in quella posizione però secondo me DJI dovrebbe integrare di suo un supporto orientabile nei suoi controller perché comunque i suoi controlli sono belli sono fatti bene sono curati però manca sempre questa cosa che almeno a mio parere poi scrivetemi anche voi nei commenti cosa ne pensate lascia un po di amaro in bocca perché ci viene a mancare un qualcosa che ci dovrebbe essere di serie su droni di questo livello è vero è una cosa se vogliamo un po semplice stupida nel senso che ovviamente è importante che il drone voli bene che il controller sia fatto bene che tutto funzioni bene però appunto quando si spendono determinate cifre avere anche questi dettagli diventano secondo me abbastanza importanti però va beh scrivete nei commenti voi come preferite avere lo smartphone se vi va bene anche soluzioni diciamo senza la possibilità di orientarlo se orientate voi il tutto spostando il controller in basso in alto nel senso scrivetemi voi se la pensate come me o meno cosa avreste fatto voi al posto di DJI quindi ragazzi questo era solo un piccolo video per portarvi le ultime foto del controller del Mavic Air 2 e della mia opinione dal punto di vista del supporto dello smartphone su questo controller quindi se tutto questo vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale 3GOMOFERTE se lo avete ancora fatto e se vi va ovviamente ragazzi iscrivetevi al canale youtube per non perdere neanche un video e un buon registro e un testo di novità ciao